l'imperatrice e il titolo mi veramente mi riservo di farlo finire a Flavia non lo so io però sei molto simpatico Rita aiutaci tu, benvenuta, bentornata ciao lo so io il titolo, è perde figlia, cioè paura delle ragazze ah allora è perfetta, è perfetta dici perché l'hai scelta però voglio saperlo da te allora in realtà l'ho scelta perché è una canzone che sento spesso mentre lavoro cioè l'imperatrice in questo momento accompagna abbastanza le mie sedute di disegno che prendono più o meno 24 ore al giorno infatti ti abbiamo interrotto a mandare un messaggio dicendo che programmi hai per mercoledì mattina? disegno tra l'altro avendo visto recentemente quella preview di Generazione Fumetto di cui stavamo parlando prima con Omar Rashid io mi sono proprio fissata a guardare perché c'è una parte in cui si vede te che disegni e io da ignorante ho detto oh ma no guarda che figo questa specie di tavoletta grafica grande e da una parte con la rotellina che tu scende io sono molto come i bambini praticamente una rotellina che scende e tu che colori con l'altra colori esattamente no in quel momento stava colorando sì lo stavo colorando è una grande lima mi sembra sempre una grande magia questa cosa veramente diciamo che molti disegnatori e disegnatrici hanno tavolette grafiche in questo momento di dimensioni diverse nel senso che c'è chi riesce a lavorare su degli schermi molto piccoli e io ho una grande invidia a loro perché riescono ad occupare meno spazio e io invece lavoro con una 22 HD quindi è come se avessi un altro schermo del computer ecco praticamente eh no perché io infatti ero rimasta invece a una forma più a una dimensione più piccola così sempre guardando voi che fate cose allora Rita intanto grazie per essere qui con noi oggi e partiamo dalle basi come è andata Luca? sei sopravvissuta? sì direi di sì e quali sono state come sei sopravvissuta e quali sono state le cose che sono successe le cose più belle che sono successe per te allora per me Luca è andata molto molto bene nel senso che innanzitutto c'era il sole eh già questa cosa miracolo non è mai da sottovalutare a Luca e poi insomma diciamo che io ero al di fuori dello stress dell'uscita di un libro perché comunque quando hai un libro in uscita a Luca comunque sei lì a fare le dediche e non ti godi in qualche modo cioè ti godi il pubblico e però non ti godi quella che è la programmazione del festival e invece la cosa bella della mia Luca è che avevo insomma delle attività culturali e contemporaneamente quindi dei talk e le presentazioni ad esempio quella di Generazione Fumetto e mi sono potuta godere un po' tutta quanta la Kirmes farmi un giro fra i cosplayer addirittura sono arrivata ai games che è una cosa che non riesco mai a fare perché appunto diciamo che Luca Comics and Games è un festival vastissimo che offre tantissime cose su tanti fronti contemporaneamente e infatti è molto difficile che qualcuno riesca a viverlo appieno perché ad esempio io vivo nella bolla del fumetto e quindi posso raccontare cos'è per me Luca Comics però nei games è succeduto tutte altre cose le anteprime cinematografiche sono tutt'altro e via dicendo quindi c'è una vastità enorme la cosa che mi è piaciuta di più sono state le mostre c'era la mostra di Amano che era una roba pazzesca io confesso che non vedo l'ora di vedere la mostra che inaugura a Milano fra qualche giorno ma devo dire che io mi sono veramente commossa entrando dentro questa mostra perché parliamo comunque di un artista che ha lavorato su tutti i temi possibili cioè dal character design dei cartoni mati con cui siamo cresciuti della Tatsunoko per dire Mago Pancione, Yattaman, Arikampo Limar Taekaman o cose del genere per arrivare a videogiochi di grandissima diffusione fino al suo lavoro artistico personale che è in tutt'altro stile che ha una meraviglia da vedere quindi per me Luca Comics and Games ha vinto già soltanto con la mostra di Yoshita Kamano io lo devo confessare e poi prego dimmi no 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 la proposta di Luca Comics per una persona che proprio l'ha sentita soltanto nominare e ultimamente anche il TG1 si è accorto di Luca Comics and Games va bene un po' dai sì ma appunto lo cito come step ulteriore dopo di questo c'è proprio il mainstream ma non c'è proprio la dimensione una città non è neanche troppo una cittadina che viene si anima di e ospita integralmente appunto c'era addirittura una gioielleria che vendeva dei fumetti gradati di grande valore al posto dei cogliere e dei gioielli ma appunto tutta la dimensione di tutta la città si ribalta e diventa scenario e anche custodia di questo mondo che si comprime dentro le mura e uso questi termini anche piuttosto figurativi proprio per rendere anche la sensazione di densità di una proposta appunto di tre o quattro giorni che se illuminata dal sole come in questo caso può portare ricordi felici oltre che sempre delle mostre veramente incredibili ne ho viste di brutte molto raramente però appunto è un evento uno appunto il più grande evento nazionale il più grande evento continentale europeo prima o dopo Angoulême correggi Mirita beh più o meno allora secondo me a livello di importanza culturale per il fumetto è più importante Angoulême ma da un punto di vista di numeri di offerta e di varietà proprio di quello che viene proposto è assolutamente Luca più importante e poi c'è San Diego Comic Con c'è una gigantesca un gigantesco evento giapponese quindi stiamo parlando di una cosa molto molto importante andiamo un po' più nello specifico rispetto al panel sulla Toscana delle donne e in generale insomma su un argomento che ci tocca spesso quando sei qui con noi ovvero le donne nel fumetto ci tocca spesso in generale però insomma ci piace parlarne con te ecco fra le altre e come è andato a che punto siamo di questo discorso sono venute fuori cose nuove dacci un po' il polso della situazione allora sì la Toscana delle donne è una rassegna che abbiamo organizzato dalla regione toscana che è dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne ed è una iniziativa che esiste già da diversi anni da quest'anno la Toscana delle donne coinvolge anche il fumetto e lo fa coinvolgendo tre autrici di cui ho il piacere di essere una e le altre due sono Margherita Tramutoli in arte la Tram e Alice Milani sono altre due fumettiste e cui lavoro verrà presentato in mostra a partire dal 21 di novembre a Firenze ottimo e quindi avremo una mostra dei nostri lavori che come forse già sapete sono molto coinvolti diciamo sulle questioni di genere e contrasto alla violenza e quindi verranno utilizzati come spunto per approfondire determinati argomenti che appunto ci stanno a cuore per sensibilizzare contro la violenza sulle donne a proposito per raccontare questa mostra e tutto abbiamo fatto un incontro insieme a Cristina Manetti che è il capo gabinetto della presidenza della regione toscana e che è appunto l'ideatrice della Toscana delle donne e le due curatrici della mostra che sono Barbara Gozzi e Annalisa Quilici e ovviamente il presidente della regione toscana Gianni è stato un incontro da un lato istituzionale perché chiaramente stiamo facendo insomma una cosa istituzionale ed è importantissimo che le istituzioni si interessino di questo e facciano quanto più possibile per cambiare la nostra cultura e poi cambiare anche come dire la pratica e dall'altra parte invece poi è stato un incontro mi permetto di dire verace ma nel senso nel senso che sia io che la Tram che Alice siamo tre autrici molto autentiche in quello che facciamo i nostri fumetti sono la nostra voce e siamo molto consapevoli che viviamo in un momento importante per le fumettiste e dico importante perché cominciamo ad essere veramente tantissimo e siamo in un momento storico del fumetto in cui le nuove generazioni stanno crescendo leggendo voci femminili che è una cosa che non succedeva prima e se le voci sono importanti tutte quante è vero che esiste una parte del racconto che è fortemente condizionata dal fatto che sono sempre stati gli uomini a raccontare le storie facevamo un esempio molto chiaro sia io che Alice Milani nell'incontro sul fatto che ad esempio in uno degli episodi di Case Rosse fumetto mio di Susanna Mattiangeli che usciva su Internazionale Kids a uno dei personaggi vengono le misturazioni per la prima volta e questa cosa è stata molto importante per tantissimi genitori che mi hanno scritto e mi hanno detto grazie mi hai dato lo spunto per raccontare per spiegare a mia figlia o a mio figlio il ciclo e io da piccola non ho mai avuto una cosa del genere e il motivo per cui questa cosa non è mai esistita perché a un uomo non verrebbe mai in mente di raccontare il ciclo perché il punto di vista fino adesso è stato quello maschile quindi non parliamo di qualità del racconto ma parliamo di contenuti e di modalità del racconto che stanno cambiando stessa cosa per il parto raccontato da Alice Milani e questo fa la differenza può non sembrare ma la fa tantissimo assolutamente tra l'altro sono in attesa anzi chiedo al presidente della regione Lazio di scrivere al 351 5241 101 quando fare il Lazio delle donne non la Lazio non la Lazio non la Lazio non la Lazio io mi aspetto sarebbe molto bello forse un po' sarebbe molto bello come diceva giustamente anche Rita questo è il momento di anche prendere posizione rispetto a queste vicende a qualsiasi cosa insomma e forse da questo momento in poi lo sarà ancora di più quindi è importante è importante che anche noi lettori lettrici sappiamo insomma far sentire la nostra voce con quello che vogliamo anche leggere vogliamo che ci sia questa pluralità di voci non soltanto quando andiamo a votare quella X no no qualsiasi cosa i nostri soldi spesi sono diamo un piccolo senso a questo capitalismo che un senso non ce l'ha almeno indirizziamo le nostre letture senti invece che tipo di lucca è stata quest'anno oltre al sole a parte le moste proprio come come atmosfera visto che tu praticamente da quant'è che vai a lucca da sempre tutti gli anni no non da sempre secondo me sono una decina di anni che vado a lucca è un buon campione un buon numero guarda lucca è stata da un lato molto bella dall'altro credo che abbia registrato meno presenze rispetto agli scorsi anni quindi quindi le presenze sono un po' accalate secondo me disincentivate molto dal fatto che diciamo che lucca è diventata una città un po' invivibile cioè ciò che è invivibile è inapprocciabile dal punto di vista dei prezzi a proposito del capitalismo le case in affitto aumentano del 160% durante lucca comics and games quindi se vuoi andare ai caraibi o se vuoi fare 5 giorni a lucca più o meno ti costa la tua cifra quindi forse i caraibi potrebbero essere una scelta dove il sole è più garantito non lo so quindi diciamo che questa cosa secondo me in parte ha disincentivato il pubblico diciamo anche la gestione interna del diciamo del gestire dei flussi di persone so che ha dato qualche disagio agli editori che non li ho visti felici e scoppiettanti come come gli altri anni se proprio devo essere se proprio devo essere onesta quindi sicuramente secondo me ci sono tante cose su cui ragionare e da cambiare per far funzionare quella macchina difficile che è il sistema editoriale e Luca è la fiera più importante dal punto di vista del fumetto e quindi secondo me sarebbe bene che si creasse un dialogo per andarsi incontro e questa devo dire è la nota negativa che io ho visto sul festival per il resto io ho visto uscire un sacco di libri bellissimi ho visto premiati dei libri che mi sanno molto a cuore e io sono felicissima che abbia vinto un premio Caglina Muova ad esempio che è un'autrice fantastica e che ha fatto un libro con Rulz che si chiama Odio l'estate che secondo me è un libro tenero graffiante intimo e allo stesso tempo che ci racconta tante cose sulla gestione della malattia a livello politico che per me è un libro importante e sono contanta che abbia vinto ma così come sono contanta che sia stato dato un premio a Dax di Kate Beaton perché appunto sulle questioni di genere ma anche sulle direzioni in cui sta andando il mondo è un libro che racconta delle cose importanti ma ancora di più sono contanta che sia stata data una menzione speciale Amazen al-Khatib io spero di aver pronunciato bene il suo nome che è questa fumettista illustratrice palestinese che è mancata qualche giorno fa e quando diciamo che è mancata non è disgraziatamente venuta a mancare per le casualità del mondo ma è mancata vittima di un bombardamento e di un genocidio in atto contro il popolo palestinese e quindi diciamo per volontà di molti fumettisti e fumettiste è stato richiesto un premio una menzione speciale a questa a questa fumettista che ha testimoniato fino al giorno prima della sua morte quello che stava accadendo sulla striscia di Gaza alla 351-5241-101 arriva un messaggio di una persona che ti voleva salutare già sei la città da te da te da te io correrei noi ormai sosteniamo questo amore grazie mille grazie davvero Rita Berluccioli e tra l'altro oggi è una puntata così in cui un ospite saluta l'altro Omar Rashid mi ha detto saluta Mirita e non so se tu vuoi salutare il prossimo ospite che sarà Riano Elcolani ormai è diventata come si fa una specie di trattoria sta la smissione vediamoci a cena tra l'altro complimenti per il bellissimo poster che hai realizzato per l'Eurobalkan Film Festival perché io ho avuto difficoltà ad avere concentrata la vista guidando perché ogni tanto l'ho incrociato per stare l'ho fatto ma quella è Rita e ho dovuto inchiodare quindi bellissimo io non l'ho ancora vista ci sono ci sono dimmi dov'era beh i piani alti della capitale d'Italia soltanto servono soltanto lungotevere quelle cose lì quando vado dal medico le vedo queste cose tra l'altro ho fatto un pensiero simile sempre guardando Generazione Fumetto mi sono detto oh ma guarda quando c'erano le riprese ovviamente del tuo ambiente di lavoro mi sono detto vedi Rita praticamente alle pareti abbiamo le stesse pareti noi abbiamo le cose tue alle pareti e tu giustamente c'hai anche le cose tue alle pareti e quindi abbiamo un ambiente simile in cui in cui lavorare secondo me per bilanciare Flavia mi devi fare un disegno io me lo faccio beh certo guarda sei una cosa magari lo faccio fare alla novenne che secondo me viene meglio rispetto a perché va bene tutto anche un'opera collettiva molto bene allora pure quella di due anni piccola che ieri è tornata con le mani arancioni credo che potrebbe essere una buona cosa chiudiamo l'osteria ma soprattutto evitiamo che il il sottoscritto prenda le no tu no io no meglio di no meglio di no grazie mille Rita Perruccioli la tua seconda scelta sono i blur ok boys and boys abbiamo visto il concerto a Lucca sì eravamo quindi contemporaneamente nello stesso posto ma non uno accanto all'altro pensa un po' beh anche lì era bello pressato come quantità di gente basta basta è invadente questo signor Ranieri ciao Rita grazie grazie mille a presto ciao ciao